Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Itas a sta stagione E sto faticando eccessivamente perché, madonna, i video che sto pre-registrando è una cosa eccezionale Vi giuro, ma tantissimi, ma io ho torrents su sta roba, ma penso proprio di sì, per forza E due addirittura, ovviamente, ergo gli faccio male anch'io Allora Andanzi, volevo andare, oggi siamo in missione di pace perché andiamo a creare la nostra base del Nether Necessariamente dopo aver fatto quel tunnel megagalattico che ancora non ho finito perché oggettivamente ci vuole tanto tempo per fare quel cazzo di tunnel C'è una zombie! Muori, ok Riprendiamoci sta roba, madonna che palle comunque Ma si possono creare teste rose, quante so? Cioè, due stacche e mezzo, due stacche e mezzo Due stacche e mezzo, ma dai, ma come cazzo si fa due stacche e mezzo, ok perfetto Buttati Ora, la mia idea era quella di togliere tutto, ma rimuovere proprio tutto pesantemente E cambiare la disposizione Oh, per cambiare la disposizione dobbiamo adattarci un po', ok? A quelle che saranno le disigenze di questo posto Nel senso, no, mi spiego meglio perché detta così, cioè, ma che friga che cazzo stai dicendo Abbiamo un portale del Nether che sta qui, ok? Ergo, bisognerà inventarsi qualcosa per far sì che quella sia all'entrata, bene o male, no Non puoi metterlo lì a caso e è brutto, ci sta malissimo a caso, ok? Eppure per il verso sbaglio, cioè, nel senso, questo portale del Nether è un cazzotto in un occhio qua Però è quello che c'è arrivato, ergo dobbiamo utilizzare questo necessariamente Potrei anche rifare, in verità posso rifarlo In verità io lo rifaccio, probabilmente lo rifacciamo pure Perché se io lo rifaccio, tanto si ricollega a, spero si ricolleghi Al portale sì, ma si ricollega sicuramente Quindi io posso tranquillamente rifare il portale del Nether, ok? E questo è già un punto a nostro favore Ora, sorvolando sul fatto che questo è uno dei ponti più brutti che io abbia mai creato Ma vi giuro, è ridicolo come ponte È bruttissimo, è una cosa devastante che non siamo vista mai Ho ripreso anche, no, non ci spero di riprendere i walls A parte che non mi frega niente Però, oddio, fanno, no, ok, facevo veramente ridere Non so come ho fatto a sopportarlo tutto sto tempo A parte che nel Nether non ci vediamo mai, però Oddio, bruttissimo, osceno, ok Bene, passiamo all'upgrade In verità serviranno tanti upgrade qua Ma veramente tanto, cioè dobbiamo fare tanto Ma proprio tanto, tanto, tanto Ora vorrei togliere anche questi, vorrei farlo largo 3 il ponte Ponte necessario? Ci serve sto ponte, parliamone Ma secondo me non più di tanto Perché lì c'è una fortezza e va bene Però la fortezza noi ce l'abbiamo anche dall'altra parte Cioè, nel senso, la fortezza noi ce l'abbiamo Anche quando prendiamo la rail e andiamo dall'altra parte Ergo potremmo fare tutto in una volta sola Why not? Ok? Quindi praticamente ci limitiamo a togliere tutta sta parte E intanto risparmiamo un sacco di roba Che fa comodo Quanto ci metterò io a toglierlo tutto? Probabilmente molto, però Dobbiamo usare un ender pearl per salire Eccolo qua Va bene, inizio a scavare Eccoci qua ragazzuoli Completata tutta sta parte Ho tolto tutto E sì, siamo contenti di quello che è venuto fuori Adesso iniziamo a mettere le basi Per quello che poi sarà la futura base Abbiamo ferro, poco Però ce l'abbiamo un po' Allora, secondo me Come la vedrei io? Io la vedrei figa Anche su due piani la base O addirittura su tre Opzionale Allora on dance Qua davanti necessario Necessario Blocco Madonna, ho già finito sto piccone Che urto Necessariamente un Necessariamente ferro Ferro, ferro, ferro Ferro a che livello? Però a questo probabilmente livello Andremo a mettere del ferro Tac Leviamo anche tutta sta parte qui Andiamo a posizionare il ferro E ci sta, per carità Secondo me ci può stare Poi ho preparato anche un'altra cosina Che adesso vi faccio vedere Così facciamo Tac Tac Questo oddio Che cosa bruttissima Notami della netherrack Non è che possiamo fare Spaccarlo A nostro piacimento Qui ci vorrei ricoprirlo così Ecco Perché se no Vedere la netherrack Che poi si interrompe così È bruttissima una cosa Non lo fate mai Ergo Ci mettiamo il ferro qua Che è molto più carino Se c'era un gasto Prima se mi spara è finita Ok In modo tale che non si veda Sembra che questo possa continuare Per tanto tanto tempo ancora Questo lo leviamo E facciamo una stessa cosa Di qua Ok Fino a qui In verità lì non c'è bisogno Infatti lo rimuoviamo Perché è pur sempre un blocco di ferro E costa tanto Ok Va bene Tac Tac Tiriamo su E poi questo lo ricongiungiamo Stop Dimentica Altra linea Ma Ne riparleremo Ne riparleremo Questo lo possiamo riempire E siamo a posto Ok Adesso La cosa fondamentale È gestire il portale del leather Perché è brutto qua È oggettivamente brutto Qua ho intenzione di metterci Tutto vetro Nero Già preparato E Tac No non lì Questo lo perdiamo la grande È infatti andato diretto nella lava Tac Questa potrebbe essere una delle varie opzioni E facciamo la stessa cosa anche a chi Di qua E tiri su Perfetto Va bene Poi dopo Faremo il tutto in maniera diversa Lo voglio anche allargare sta base Perché così È oggettivamente troppo piccola Non è in verità troppo piccola Però sembra piccola Ora il portale del nether Dove lo voglio mettere? E lo potrei mettere anche qua Perché abbiamo tutti i tre ingressi Qui sopra la bedrock Lì da un'altra parte E poi di là Ci mettiamo il portale Quindi adesso lo rompiamo Piccolo problema Ma proprio piccolo Non c'ho l'accendino Ma lo dobbiamo andare a prendere Necessariamente Necessariamente Andiamo a prendere Questo accendino È perché io Vabbè ma Che ci vuole? Basta c'è la Qui si trova La La ghiaia E guarda Ce n'è un monte lì Quindi tranquilli Ci torniamo a casa Il ferro ne abbiamo A quantità industriali Ergo va bene Non ho Non so Cioè non ho paura Di failare malissimo Ok Ci mettiamo qua soltanto Magari scavare un po' E aspettare che ci tiri fuori Qualcosa di figo Blitz di intermezzo Voglio andare a vedere Che cosa c'è qua Perché questa fortezza Io non l'ho esplorata mai Ergo ci sono loot E ci sono tante cose belle E fighe Ok Perché in quell'altra fortezza Ci ho passato un botto di tempo In questa non ci sono venuto mai E secondo me è molto grande Perché poi No magari fa il giro Per carità Però perché si espande per tanto Cioè O è un'altra fortezza Quella che avevo visto Oppure Sempre questa Ed è enorme Cazzo Mi sto perdendo Praticamente C'è una cassa Vediamo se l'abbiamo esplorata Oh C'era l'accendino Fanculo Va bene Ok Prendiamo la cassa E continuiamo la nostra esplorazione Perché oggi Siamo Anche di loot No Magari troviamo qualcosa di figo Netherworld Netherworld E prendiamo la spada E prendiamo anche questo Poi appena abbiamo riempito l'inventario Buttiamo qualcosa Che non ci serve Tipo la spada In oro Fa veramente schifo Anzi Facciamo una cosa Vai Grazie La pettorina in diamante È bella Perché la metteremo nel nostro cavolo Dato che È un oggetto anche abbastanza No Non è rarissimo Però insomma Bisogna trovarlo solo a qualche parte Ecco Magma cream Vieni qua Se mi dai Magma cube Se mi dà il magma cream Sono contento Anche se Non me lo darà mai Infatti Altra cesta all'orizzonte Ah merda La sed 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 Vai Preso Grande Shottato Buono Allora Portale Giusto Non divaghiamo Portale Non so dove farlo Devo essere sincero Cazzo Al centro Che poi Il fantomatico centro Quale potrebbe essere Sentite Leviamo sta cazzo di scala A caso Ok E mettiamo qui il portale Poi Dopodiché Se ci gira male Possiamo tranquillamente Farlo In qualche altro modo Sì Probabilmente sì Però adesso Con calma Non c'è fretta Non c'è fretta Lo facciamo tranquillo Easy Simpatico Però lo voglio fare Più carino Diverso Entrano tre Tre Sei Nove Dodici Un Due Tre Dammi anche il ferro Fai così 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 E così Poi c'hai Uno Due Tre Ferro Uno Due Tre Ferro Ferro Detto Uno Due E tre Bim Vediamo se funge Questi Devo mettere dentro questi E devo rivendere Perfetto Entriamo Ovviamente funziona Safe Ovviamente funziona Grande Adesso Rientriamo nel nether Per proprio correttezza Di funzionamento del portale Eccezionale Porteremo in un posto sperduto Nope Nope Dobbiamo ovviare però al problema Di questi cazzo di rose Ma porca troia Io non è che ogni volta che entro nel nether Posso fare sta roba Perché io Beh non male Dove un po' mi miro poglioni Cioè Mi ro poglioni E se mi ro poglioni Mi ro poglioni Ok Perfetto Ci fa piacere Adesso dovremo sostituire Tutta sta roba Con gli stop E questo è il primo passo Allora ragazzoli Che cosa è successo Ho fatto un po' di giri Sono andato a casa Ho spostato il portale Uno più in alto E pensavo di fare una cosa para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ergo anche di qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Quindi questi lì smadoniamo tutti praticamente Ora non so quanto posso essere conveniente Far una roba del genere A noi ci si prova Ok Perché poi secondo me viene figo Una cosa Easy, ordinata Bella, carina Figa Soprattutto perché voglio fare le cose fighe Se no non c'è senso Che stiamo qua a pettinare le bambole Assolutamente no Ok Ergo Facciamo una cosa figa Particolare Ok Arriviamo fino a qua Poi dopo su come vederla Staparte Ci penseremo successivamente Non è un problema Adesso direi di fare soltanto Questa parte un po' più difficilotta Che è appunto quella dello scavare Scavare per bene Perché se no ci parte il piccone No ci parte sì Facciamo i contorni a caso E poi ci parte il piccone Dobbiamo stare attenti C'è della lava No Ok c'è la roba là Vabbè Per ora siamo così Per ora siamo così E non è male Ok questi li butteremo tutti Ho intenzione di buttarli tutti Non ci facciamo assolutamente niente Questa roba Ok quindi Control Q Control Q Control Q Ce ne abbiamo ancora Control Q Q E Q Perfetto No no è inutile Vi giuro Non ci facciamo niente Ne ho un'infinità di quella roba E prenderla dell'altra Beh ok Non ha molto senso secondo me Perfetto Scaviamo anche di qua Qui c'è qualcosa che non va Qualche bug Grafico Adesso spacchiamo tutta questa roba Rimettiamo tutti i stone brick E poi vediamo come evolvere Signori Mi è venuta una mezza idea Mi è venuta una mezza idea Del tipo Fare cosa Guarda un po' Perché c'ho tutte e due le cuffie io Ok Qui Tac Prosegui davanti E poi vai di qua Ti là Ti addentri Qua dentro Per qualche blocco Tac 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 Ok una cosa del genere Oggettivamente Così Poi ci metti un altro Eh tre Esatto Sono due tre Quattro è largo Il portale del nether Cinque 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 Cazzo la bella Dei scala Cinque È tanto Tac Tac Ok qui ci sono tre Di differenza Stessa cosa dovremmo portare A fare qui Tac Ok Così 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 E così E così E così Vabbè uguale Che cazzo Ci frega E mettere del vetro Perché volevo fare la cosa figa Del tipo Guarda cammino Sovra un mare di lava Non ho paura Se un gust mi spara Moglio sicuro Ok Questo era il senso Un po' del tutto Che non è male Se può fa Insomma No Oddio Oddio no Oddio no Oddio ho fatto il danno Oddio ho fatto il danno Ho fatto il danno Ho fatto il danno enorme La dobbiamo riprendere Ma porca troia Ok È andata Presa Buono Grandi Ok adesso possiamo Rismontinare tutto Madonna Io devo stare attento A questa roba Ma che cazzo Por Boni Boni con calma Con calma Con calma Fermo 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 Io non ho neanche frecce Ma che cazzo Barrica 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 Tutto Barrica Tutto Fermo Quella è di nuovo La faccia di Aerobrine Che Ci è venuta a infestare Anche il nether Io però stavolta La faccio esplodere Vi giuro Stavolta mi prendo La vendetta Che tanto mi aspetta Solo che non c'ho Frecce Non c'ho C'ho i razzi Ma non c'ho l'elitra Fatemi pensare Che cosa ci possiamo inventare L'idea di chiudere col vetro Non so quanto possa essere intelligente In tutti i casi Perché poi alla fine Il vetro Ci vede poi Un'entità Che non so bene Quale caratteristiche abbia Se mai ce le dovesse avere In tutti i casi Quindi non ne ho la più pallida idea Comunque Come al solito Sembra innocua Non fa granché Spero non abbia fatto Disasteri nel nostro mondo Nell'overworld Comunque attualmente Pace Amore Gioia infinita Ok Nella speranza che lui Non abbia fatto Disasteri Nell'overworld Comunque questo lo possiamo Ecco lo rimuoviamo tutto Qui il vetro no Però non così Facciamo una cosa Ero preso un attimo Dalla foca Scusate Così E così Perfetto Una cosa del genere Mettiamo Poi dopo Vedremo insomma Come modificarlo E farlo molto più figo E tutto il resto Però attualmente L'idea dovrebbe essere Proprio Questa qua Ok Con del vetro qua sopra Che ci va a fare Un po' da divisorio E ci fa vedere anche Tutto il nether Anche se è una versione Molto più scura Magari dovremmo mettere Un po' di luce E poi qua invece Puoi uscire E Tipo Una cosa del genere Voglio fare Vediamo un po' se riesco a farla A rendere l'idea Così No Però ne voglio un altro sopra Così Tipo due Tre È È Una cosa Tipo una cosa del genere Ci può stare Che secondo me ci può stare Poi lo alzi di uno Così E lo alzi di un altro Ancora E lo metti di qua Questo è il senso Va bene Ragazzoli Spero che questo video vi sia piaciuto In tutti i casi Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi lasciate mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non avete fatto Di condividere il video su Facebook E farmi uscire a persone Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram E noi siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti